È stata presentata questa mattina nella Sala Conferenze della Cassa Rurale Altogarda e a DRO la nuova edizione di Ridendro e Scherzandro, l'immancabile appuntamento con la comicità che da 11 anni si svolge in Piazza della Repubblica a DRO. Quest'anno la manifestazione avrà luogo dal 14 al 17 luglio e coinvolgerà nove cabarettisti provenienti da tutta Italia che si sfideranno sul palco a colpi di risate. A decretare e premiare il vincitore saranno il direttore artistico nonché conduttore Lucio Gardin e la subret Antonella Mosetti. Per inaugurare al meglio la rassegna il 13 luglio ci sarà un concerto di Fabio Concato organizzato grazie alla collaborazione di Altogarda Jazz Club. Per l'occasione abbiamo intervistato Lucio Gardin. Lucio Gardin è il presentatore di queste cinque serate di Ridendro e Scherzandro. Allora cosa si può aspettare il pubblico da questa nuova edizione del 2016? Allora ci sono tante novità, tanto per cominciare non saranno solo quattro serate come sono state fino adesso ma ci sarà una serata supplementare che sarà mercoledì 13 luglio con il concerto di Fabio Concato e da lì si parte con il festival. Ci saranno alcune novità, ci saranno dei ritorni perché avremo dei comici che abbiamo già visto e proprio in virtù della loro bravura sono stati richiamati tipo Sergio Sgrilli tipo Giacobazzi, Cirilli e Lauretta in chiusura. Avremo la madrina Antonella Mosetti e avremo dei comici invece nuovi come Alessandro Politi e Andrea Di Marco che saranno giovedì 14. Ogni serata avremo tre comici in gara, comici che provengono da tutta Italia, ho fatto le selezioni e vi assicuro che sono di valore elevato perché alcuni di loro hanno già fatto delle piccole partecipazioni a Zelig, a Colorado e a Eccezionale veramente con ottimi risultati. Per cui diciamo che la serata porterà delle risate. Di solito quando ci sono le interviste nel mondo del calcio ci sono gli sponsor dietro che si muovono, siccome in questo caso sono fissi mi muovo io così fate finta di vedere gli sponsor che si muovono. Dicevo che ci saranno dei comici molto bravi da Roma, vengono da Napoli, da Torino, avremo anche due comici trentini in gara e ogni sera ci sarà un intermezzo musicale con degli artisti di grande livello, ragazzi che sono stati anche a Castrocaro, avremo delle vallette dell'assistente di palco perché non sta bene chiamarle vallette, anche quelle molto belle, ci sarà la recente vincitrice del premio di Miss Trento che parteciperà quindi a Miss Italia e di Miss Trentino Alto Adige oltre ad una ragazza che è arrivata lo scorso anno in finale a Castrocaro per cui aveva già vinto Miss Trentino Alto Adige. Insomma ci sarà la bellezza e ci sarà anche la comicità. Io salirò sul palco per far vedere la differenza tra le cose belle e le cose comiche. Sono sicuro che sarà un'altra edizione col botto, un'altra edizione che porterà a DRO tantissime persone e il mio applauso più grande va nei confronti del comitato organizzatore che sono dati da fare moltissimo per realizzare questa manifestazione che perdura da 11 anni con sempre maggiore successo e lo fanno per la popolazione sia del Basso Sarca ma come è avvenuto negli anni scorsi affluiscono in piazza a Trento anche persone da in piazza a DRO affluiscono persone anche da Trento e addirittura da Mirano per cui insomma è un evento molto importante. Vi aspettiamo numerosi e fiduciosi che trascorrerete una serata divertente.